Sì, però il motore non va bene, il motore non tiene forza e vamo a trattare a riparare, però non va bene al momento. Quindi nonostante queste difficoltà, non sbaglio, è il sesto assoluto equipaggio austriaco, Arrak Prante, compito Porsche 911 RS, quindi veramente va forte, il motore non va bene. Appunto, invece non ha forza, io qui sto sul momento, la partenza e la salita, i primi 250 metri facevano veramente spavento queste superauto, queste Porsche, una trazione, un trekking incredibile, comunque chiaramente ogni problema, ogni pilota ha il suo problema, siamo veramente ansiosi di vedere la tappa di domani che ricordiamo partirà alle 7 di mattina e introdurrà un'altra variabile in questo bellissimo rally di Lisbeth, la variabile del Polterraio che finora non hanno ancora.